Non perdiamo il tempo, forza! Tutta la piazza, vai, vai! Fra un po' facciamo la diretta, ci colleghiamo con i nostri amici dell'Abruzzo, della Basilicata, della Campania, del Molise e della Calabria, che ci aspettano queste sate nelle piazze del Lazio. Hai ragione professoressa! Vai! E' stato un brisco, chi, ma sa farla tutta e pizze, nu moventavo viss un viss, laia parte o laia garizzi, stretta e vada vassa e pizze, chiudistumi più da po' vissze, oa parte da vire inizio, da cazierati, 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 e da cazierati, da cazierati, da cazierati, che ci aspettano queste satelle dove fosse passaremmo. A meno! Puode con le, pone bene! O è la... Che queste ero un fresco vizzi, casa bada tutta vizzi, ruova vettava vizzi, vizzi, a davanti per due garizzi, strette bada vaze vizzi, e io ti sveglia vizzi da vizzi, rumata da virinizzi per la cina pizza vizzi, in a quattro scabizzi che stia ero un fresco vizzi. Aia, 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 aia! Aia, 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 a Grazie!